Buonasera a tutti e ben ritrovati con la sessione registrata della nostra trading room. Abbiamo deciso di anticipare la sessione del giorno oggi giovedì 21 luglio per parlarvi insieme a Lorenzo delle banche centrali e delle decisioni sulla politica monetaria. Lorenzo benvenuto. Ciao Samuele grazie buonasera a tutti. Allora oggi parleremo innanzitutto andremo a chiudere una anzi due posizioni che avevamo aperto sul petrolio in opzioni così da finanziare in parte le nostre spese di benzina per le vacanze per chi di noi si muoverà in auto e poi la notizia del giorno è che oggi la BCE ha alzato anch'essa i tassi di interesse quindi andremo a vedere nel dettaglio la decisione presa e a confrontarla con quelle che dovrebbero essere le mosse della Fed nella prossima riunione di mercoledì e quindi a spiegare le possibili implicazioni sull'eurodollaro. Per chi non mi conoscesse oltre a far trading in opzioni e spread sono specializzato in trading intraday sui futures quindi sui mercati regolamentati utilizzando l'analisi statistica e volumetrica quindi per chi fosse interessato a questo mondo che è molto più frenetico ma estremamente entusiasmante rispetto all'investimento tradizionale trovate il link per iniziare a formarvi a costo zero in descrizione. Eccoci qua Lorenzo sulla nostra piattaforma passiamo subito al nostro petrolio. Sì abbiamo aperto due posizioni speculari due ratio spread uno lato call uno lato put con l'idea che il petrolio sarebbe rimasto all'interno del range di prezzo fra 90 e 100 più o meno quindi che non avrebbe subito grossi scossoni. In effetti si è mosso un po' un po' a ribasso un po' a rialzo ma è rimasto più o meno in quel range e quindi entrambi i lati della nostra strategia stanno guadagnando. Ora siccome stiamo portando a casa un bel profitto e comunque sia mancano ancora una ventina di giorni alla scadenza delle opzioni si avvicina il periodo estivo delle ferie dove la liquidità è più bassa e possono accadere degli scherzetti sul mercato proprio per la minore presenza di volumi io direi che è proprio il caso di portare a casa i guadagni. Quindi Samuele procederei a chiudere tutti i vari pezzi della strategia ovviamente vanno chiusi essendo uno spread asimmetrico vedete eravamo long una put e short due put vanno chiusi pezzo per pezzo cioè non si può trasmettere un unico ordine per la strategia quindi ovviamente va venduta la gambe che si erano acquistata e ricomprate le gambe che si erano vendute. Perfetto sto andato a impostare degli ordini quindi inversi a quelli di ingresso li ho messi tutti a mercato in modo tale che possiamo chiudere anche la nostra posizione velocemente Lorenzo e andiamo a trasmetterli simultaneamente in modo tale da liberarcene. Ecco fatto. Perfetto. A breve verranno sicuramente eseguiti. Ok quindi portato a casa il profitto sul petrolio direi di andare invece a vedere sul sito della BCE qual è stata la decisione presa oggi sulla politica monetaria perché se è vero che l'inflazione ormai la fa da padrona non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa mentre negli Stati Uniti ormai da inizio anno hanno intrapreso la politica di rialzo dei tassi diciamo che l'Europa era fra tutti i grandi paesi quello più indietro diciamo che esclusi Svizzera e Giappone però hanno dinamiche strutturali un pochino diverse e le cui valute sono viste come valute rifugio diciamo che l'Europa fra tutti i paesi avanzati del mondo era quella con i tassi più bassi e oggi hanno portato i tassi dallo 0% un po' a sorpresa allo 0,50 cioè hanno fatto praticamente due rialzi in uno e questo perché per adeguarsi ovviamente alla concorrenza tra virgolette e soprattutto per stare al passo con l'inflazione ma ciò che è altrettanto rilevante è la frase che dicono all'inizio del terzo periodo del comunicato stampa che è uscito oggi alle 13.45 Samuele se vai un pochino più in basso eccola nelle prossime riunioni del consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse per normalizzazione si intende ovviamente un'ulteriore crescita un'ulteriore aumento perché l'obiettivo di lungo periodo della BCE come detto qualche riga più sotto è quello di portare l'inflazione intorno al 2% le ultime stime dell'inflazione in area euro parlano dell'inflazione all'8% quindi ovviamente ben al di sopra di quello che è l'obiettivo di medio periodo della banca centrale e quindi l'unico strumento o comunque sia il principale della politica monetaria a disposizione della BCE per poter normalizzare diciamo l'andamento dell'inflazione è proprio quello di innalzare il tasso di interesse quindi innalzare il costo del denaro e raffreddare un pochino l'inflazione quindi diciamo che anche l'Europa ha cominciato a muoversi se andiamo sul sito di investing Samuele abbiamo lo specchietto riepilogativo ed è molto utile di tutti i vari tassi di riferimento delle principali banche centrali globali e abbiamo anche il calendario dei prossimi incontri in calendario ovviamente oggi c'è stata la BCE e mercoledì 27 quindi mercoledì della prossima settimana ci sarà la riunione della Fed i tassi al momento negli Stati Uniti sono l'1,75 ma c'è uno strumento che la Fed mette a disposizione assolutamente in modo gratuito ed estremamente trasparente ed è probabilmente l'unica banca centrale che lo fa che è quello delle proiezioni che possiamo trovare all'interno del loro sito sotto diciamo il calendario dei appuntamenti dove praticamente la Fed spiega quali sono le proprie aspettative vediamo che nella praticamente seconda colonna di questa tabella abbiamo tutte le proiezioni del 2022 quindi stime della variazione del PIL della variazione del tasso di interesse dell'inflazione ma soprattutto le ultime due righe quello che ha appena evidenziato Samuele abbiamo la stima dei tassi di interesse di fine anno e a giugno quindi nell'ultimo meeting fatto è stato fissato il tasso di interesse di riferimento a fine anno al 3,4 3,4 per chi non è diciamo familiare con il gergo della Federal Reserve significa fascia di interesse fascia di tassi di interesse tra il 3,25 e il 3,5 per cento quindi significa un tasso di interesse nominale finale del 3,5 siccome siamo all'1,75 ciò significa che di qui a fine anno la Fed si aspetta un altro punto e 75 di aumento dei propri tassi di interesse che a 0,25 a botta significa altri 7 rialzi dei tassi da 0,25 ma quanti meeting abbiamo da qui a fine anno della Fed 1,2,3,4 luglio, settembre, novembre, dicembre quindi la Fed avrà solamente quattro occasioni per rialzare i tassi il che significa che si spetteranno come spesso franno le proprie stime nelle prossime rioni della Fed ci saranno più di un rialzo multiplo dei tassi di interesse cioè di più di 0,25 punti base quindi tutto questo pippone per dire che non mi farei prendere dall'entusiasmo del rialzo dei tassi di interesse sull'euro andando long sull'euro dollaro a questi livelli qua vediamo un grafico giornaliero dal 2015 in avanti vediamo che il livello di 1,05 è stato lavorato più volte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi rotto con forza qualche settimana fa per arrivare a sfiorare la parità quindi dal mio punto di vista stante il fatto che la politica monetaria della BCE sta cominciando a normalizzarsi che la Fed però continuerà ad alzare i tassi 1,05 sarà sicuramente resistenza da qui ai prossimi mesi perlomeno la prima volta ma anche le prime due volte che verrà raggiunto quindi assolutamente starei attento a comprare l'euro dollaro verso quel livello piuttosto cercherei in prossimità dell'1,05 delle operazioni short anche in ottica temporale breve quindi tenere magari un giorno due ma assolutamente non andrei long da quelle parti per chi ha dimestichezza con le opzioni al raggiungimento di quel livello si possono anche vendere delle call ben più in alto intorno a 1,09 1,10 per cercare di incassare dei premi il livello della parità oltre che scoglio psicologico è anche diciamo il minimo più recente e quindi se la BCE proseguirà con il rialzo dei tassi probabilmente reggerà potrà essere sporcato ma dubito che vedremo l'euro dollaro a 0,90 da qui a qualche mese quindi vale il discorso analogo ma inverso cioè approcci intorno a 1 sono buoni per cercare delle operazioni long siano esse direzionali col forex con dei cfd vendendo delle put comprando delle call facendo dei ratio put insomma chi più ne ha più ne metta ma definirei questo range come range operativo interessante da qui perlomeno a settembre visto che siamo in metà del riguardo adesso più o meno siamo 1,02 cosa facciamo in questo momento samuele dimmelo tu che sicuramente lo saprai mettiamo le mani sotto la sedia bravissimo esatto un bel niente osserviamo e aspettiamo perché il compito del trader non è assolutamente quello di operare per forza ma aspettare il momento opportuno per operare e questo è valido su qualunque time frame sia per chi opera in modo frenetico e fa scalping nell'arco di mezz'ora in una giornata sia per chi opera in multidense bisogna aspettare il momento giusto io samuele con i miei discorsi per oggi ho terminato ottimo intervento lorenzo ci terrei a definirlo il vademecum del trader attendere il momento propizio grande come sempre grazie per il tuo bellissimo intervento intanto qua abbiamo realizzato i nostri profitti sulla posizione del cl che si è completamente chiusa io vi rimando ai prossimi appuntamenti della nostra trading room che saranno lunedì sera in diretta alle ore 19 per tutti gli altri ci sentiremo sicuramente nel laboratorio della settimana di paolo questa sera e se per gli amici di youtube volete seguire anche voi le sessioni come quella di lunedì della trading room in diretta insieme a tutti noi alle ore 19 ricordatevi di iscrivervi nella nostra academy così 10 15 minuti prima di ogni diretta riceverete una mail con il pulsante rapido per collegarvi ed essere insieme a noi grazie ancora lorenzo e grazie a tutti per essere stati dei nostri anche questa sera alla settimana prossima un buon fine settimana ciao samuele grazie a tutti